Cari amici del volo simulato, ciao a tutti! Che cosa significa quando diciamo che oggi ho decollato con una flex di 58, sono decollato con una flex di 62, che vuol dire la flex? Vuol dire che noi quando decolliamo non usiamo tutta la potenza del motore, è rarissimo decollare con tutta la potenza del motore, lo facciamo soltanto in piste cortissime o quando siamo molto pesanti, normalmente si usa una spinta ridotta e questo si utilizza per due motivi fondamentalmente, uno per risparmiare anche un po' di carburante, ma soprattutto per preservare la vita del motore, perché il motore viene sfruttato di meno e quindi dura di più, e quindi i costi della manutenzione si abbassano e il motore stesso proprio lo possiamo utilizzare molto più a lungo, e quindi nelle operazioni normali delle compagnie aeree chiaramente è un business, si vola per far soldi e quindi tutto ciò che si può fare per risparmiare i soldi chiaramente si fa, c'è da dire anche che usando meno carburante si inquina anche di meno e quindi perché no? Allora come si fanno questi calcoli? Perché noi non è che diciamo al computer che poi gestisce la potenza e la spinta dei motori semplicemente oggi riducimi la spinta del 10 per cento del 15 per cento, no si usa questa temperatura flex che è una sorta di inganno. Andiamo a scoprire con questo grafico che si intende per inganno. Come vedete da questo grafico quindi questa linea blu è la spinta che è in grado di erogare il motore in base alla temperatura esterna e quindi all'aumentare della temperatura e fino ad un certo valore che noi chiaremo TRF, come vedete la spinta è costante. Dopodiché quando la temperatura dell'aria è veramente molto molto alta, allora la spinta del motore si riduce progressivamente. Allora cosa succede? Che oggi per esempio facciamo il caso che la temperatura attuale sia questa qui e quindi sia più alta della temperatura REF e quindi ecco là che la spinta massima che può erogare il motore è questa qui della riga rossa. Allora noi cosa facciamo? Noi facciamo i calcoli delle performance oggi del decollo in base alla pista, in base al peso e magari ci rendiamo conto facendo questi conti che effettivamente noi possiamo decollare con una spinta ridotta. Diciamo che questa spinta che è identificata da questa freccia arancione e ci basta, fatti tutti i conti, garantendo tutti i margini di sicurezza, la lunghezza di pista, le velocità, le velocità poi caratteristiche che vedremo nel prossimo video proprio. Allora noi cosa facciamo per dire al computer che gestisce la spinta del motore? Dammi questa spinta e non di più. Andiamo a vedere appunto su questo grafico che temperatura corrisponde la spinta identificata dalla freccia gialla e vediamo che corrisponde questa temperatura che chiameremo appunto temperatura flex. Allora noi cosa facciamo nell'FMGS? Inseriamo questo numero quindi questa temperatura che è come dire al computer, guarda oggi non c'è questa temperatura effettiva, la temperatura attuale, oggi magari sono 24 gradi, non ci sono 24 gradi, oggi ce ne sono 48 di gradi. Allora al computer diciamo che ci sono 48 gradi nell'aria e quindi io ti do una spinta corrispondente a 48 gradi che a noi basta perché abbiamo fatto i conti e quindi abbiamo visto che è sufficiente garantendo tutti i margini di sicurezza e quindi avremo questa spinta ridotta. Ecco quindi quando sentite dire i piloti oggi sono decollato con una flex di 60, 58 o quello che è, è appunto questa temperatura legata poi a una spinta in base a questo grafico e quindi ci consente di utilizzare una spinta inferiore alla massima ma sempre chiaramente garantendo tutti quanti i margini di sicurezza, ok? Quindi spero che adesso sia chiaro questo concetto della flex temperature, ci vediamo al prossimo video dove vedremo con più chiarezza le velocità caratteristiche, quindi che cos'è la V1, la VR e la V2 e quindi si capisce meglio anche un po' tutti questi meccanismi. Ciao e vi aspetto al prossimo video!